Buongiorno ragazzi siamo André e Sara E questo è il nostro primo vlog Oggi andremo alle visore Tremiti Adesso sono tipo le 5.42 E stiamo aspettando che vengono i pullman Stiamo incamminando verso i pullman Ecco il pullman che sta battendo Ti aspetteranno due ore di pullman Un po' noiose, noiose, noiose Ok stiamo aspettando Katiuscia Ok sono arrivati Ci sale, ci sale andiamo Dice 20 pertanto poi chi rimane là Non ce lo frega niente Brava Maria Lucia, brava brava Ma avete visto che ci hanno fatto l'autostrada Adesso il comune e qua Avete visto che storia bella che c'è risulta? Ci siamo venuti l'altra volta A cercare i pokemon con pokemon go Alla fine ci siamo riusciti Vi addormentate così vediamo Mi dispiace se vi racconto qualcosa su lei Così quello che andiamo a visitare Quello che facciamo oggi Mi raccomando un po' di cosa Adesso prendo il microfono Mi senti noi Ci barchiamo Termoli Quante ore ci aspettano ancora di noia? Quante ore di noia ci aspettano ancora? San Dobino, San Nicola, Capraia, Tretaccio e Pianusa Andiamo andando verso... C'è mamma là dietro Ton 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 Thank you Thank you Sì, stiamo quasi arrivando Sì Allora Vabbè intanto ragazzi Vi faccio vedere come mi chiamo su Instagram E seguite il mio profilo Sia Instagram che Snapchat Mi chiamo appunto Andrea Trottino Basso Cernocchi E poi su Snapchat Oh, ci sono io Mi chiamo... Dove sta Andrea? È proprio bravo Seguitemi Finalmente siamo arrivati Finalmente Finalmente L'aggiornamento Affancheee Che cosa aggiornamento? Pokemon Avevi salutato bene i vostri cagli Pronto Mentre di tornarete più Termoli Sì Siamo arrivati a Termoli Che bello Stanno i pesci sui paiera Siamo al porto E guardate C'è fantastico Che acqua bellissima Ciao gente Saludate YouTube E praticamente qui ho trovato un bellissimo Pikachu Vai oggi Bella Dai 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 Nooo Entri in quella poca Lo stronzo Preso 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 Vai Pikachu 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 è mio Pikachu è mio Pikachu è mio E niente questo sono io Guardi che figone Non ci stanno altri Pokemon in giro Sopra Siamo scesi dal pullman Siamo scesi dal pullman Saluta Ciao Adesso si incamminiamo non so dove Vediamo Andiamo 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 Venite Adesso Adesso ci imbarchiamo sulla Terrenia e non so dove andiamo E niente siamo rimasti fregati E andiamo su quella la tramiti jet che praticamente fa un po' schifo perchè Ragazzi siamo dentro Salutate Siamo partiti Siamo Giordano saluta Saluta Nooo Si Nooo Siamo arrivati Andiamo Chi è piatto No no Venti giù Venti giù Venti giù Venti giù Venti giù Saluta Che bella Aspetta Sara che stavi fa? Ehi Anedoli la maglia Oh Ava pronto Ehi Ciao Ciao! Saluta! Saluta! Ciao! Ciao! Certo, mi hai trovato una volta eh! La prima è stata così così! Di sicuro questo non l'abbiamo fatto! Questo è un barragoglione! Si vede che è sanziale! Guarda qui! Mi metti in costume, chi cazzo mi dice niente? Mi sembra un lesto fan! Oddio! Oddio! Sara scende! Sara scende! Senti Sara! Senti Sara! Senti Sara! Sara scendi! Sara! Sara buttati! Vado! 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 c'è ragazzi bellissimo è fredda è fredda è fredda è fredda è niente ragazzi questo blog finisce qui noi speriamo vi sia piaciuto e se ne volete altri scrivetelo sui commenti e niente mettete like, condividete iscrivetevi al canale mettetevi piace al video e condividetelo ovunque vogliate ciao ciao